ciao a tutti buongiorno e bentornati nel mio canale allora oggi vi porto due biglietti nuovi su portombola consecutivi sono di numero si vede si vede bene 41 la serie 41 il biglietto è 58 invece 58 e 59 che poi forse è l'ultimo biglietto sto vedendo questo quadratino nero ok comunque ok proseguiamo a grattare incominciamo incominciamo dal penultimo ok allora ditemi se si vede bene informatemi perché sono alle prime armi e non so come si fa a posizionare bene le cose io cerco di fare il mio meglio e penso che adesso si vede ok informatemi noi nei commenti io accetto commenti sia positivi o anche no un grazie a tutti a tutti i miei iscritti che sono nuova ho bisogno del vostro supporto grazie allora incominciamo a grattare primo numero 80 e ce l'abbiamo 88 ce l'abbiamo anche segue 8 che non c'è 10 ce l'abbiamo no c'è un altro da grattare 33 e ce l'abbiamo anche ok buono continua così 18 niente 64 neanche 42 si è formato 31 non c'è 73 non c'è 49 neanche 19 non c'è 15 non c'è 17 c'è abbiamo fatto ambo 13 non c'è 36 e niente di fatto va bene passiamo al secondo gioco allora due importi uguali sarebbe 5500 10.000 cento 50 e 1000 e va bene il primo biglietto è andato come vedete non c'è niente poi se sbaglio qualcosa avvertitemi per favore ok passiamo al secondo biglietto primo numero 15 che non c'è secondo numero 48 ce l'abbiamo 5 ce l'abbiamo anche 28 88 non ce l'abbiamo 26 neanche 50 no 79 si abbiamo il primo ambo 45 45 45 no 85 si secondo ambo 23 no 68 68 82 niente 66 si e come vedete cari amici abbiamo un terno ok 69 69 69 69 69 89 si ah niente un ambo ok allora prima di grattare direi di vedere il secondo gioco prima vediamo l'importo vediamo l'importo 10 euro 20 euro 50 euro 500 euro e 5 euro e 5 euro ok niente di fatto con gli importi adesso vediamo abbiamo preso il 5 66 l'85 controlliamo bene 5 5 5 66 66 e 89 ok allora premio terra vediamo quanto è ok 5 euro ok il prezzo del biglietto ok siamo contenti così comunque almeno è uscito qualcosa ok grazie a tutti per la visione se vi è piaciuto il video mettetevi un pollice in su e vi raccomando iscrivetevi al mio canale spero che vi faccia piacere che vi faccio un po di compagnia anche voi lo fate a me e comunque vi ringrazio tutti e per la visione e per le iscrizioni grazie ciao buona giornata alla prossima